Partita da pochi giorni l'obbligatorietà del Green Pass in luoghi chiusi come bar, ristoranti e cinema. Per questi ultimi il dover presentare il certificato verde all'ingresso in sale è stato un deterrente per tanti appassionati, lasciando così le sale vuote. Anche per le sagre è prevista la stessa norma. Una delle prime a utilizzarla è stata quella di Campovalano, che ha visto un boom di prenotazioni nei giorni precedenti all'utilizzo. È stata una settimana particolare perché con l'introduzione del Green Pass cambiano un po' le regole anche per gli ingressi nelle sagre e c'è stato questo effetto proprio dell'ingresso del Green Pass che ha visto effettivamente tanta gente venire nei giorni precedenti e poi il giorno proprio dell'introduzione del Green Pass un calo delle presenze proprio legato al fatto che magari questo vincolo un po' ha scoraggiato l'ingresso nella sagra di Campovalano. Però le presenze anche quest'anno sono condigendate, ma ne sono tante. Tanti vengono anche a visitare la nostra necropoli. È stato un calo di presenze, quindi c'è stato questo effetto Green Pass, però ci auguriamo che si tratti semplicemente dell'ingresso del primo giorno, il secondo giorno, ma che adesso comincia a diventare un'abitudine, una routine e quindi nella sagra prossima che faremo sono convinto che poi ci saremo abituati anche con il Green Pass.